Non vi sento, non vi sento, non vi sento, dove siete? Eravate lì dopo tre minuti che abbiamo preso gol da coglioni come sempre Eravate lì che ci speravate, vi deve venire l'ulcera, vi deve venire l'ulcera, vi deve venire l'ulcera Che prestazione raga dei ragazzi oggi, che partita Cinque minuti da dimenticare, voglio fare i complimenti alla Lazio perché hanno giocato, avviso aperto Non hanno fatto le barricate come fanno altre squadre E è stata una grande partita, non voglio neanche toccare le polemiche abitrali Non serve, non ci interessa, abbiamo vinto lo stesso Siamo stati grandi, ho visto un secondo tempo mostruoso Era da mesi che non vedevo più un secondo tempo così Un grande Milan devastante dall'inizio, dal secondo tempo Alla fine abbiamo ribaltato la partita E non vi sento, non vi sento stasera Perché il Milan è vivo e il Milan c'è 14.000 tifosi all'Olimpico Questa vittoria va dedicata a loro, a quelli che ci sono sempre A quelli che seguono questa squadra con amore E invece voi che state lì, che state lì a guardare A dare giù del pianzino a noi Voi a pianzino a noi Dai, fatemi il piacere, non vi sento stasera Potete raccontare tutte le fiabere Avvate lì che speravate di venire a rompere i marroni a noi E invece Tonali vi ha zelato il sangue E vi ha corroso il fegato Perché il Milan è vivo, l'ha detto stasera Il Milan c'è e lotterà fino alla fine E domenica prossima a Firenze Ci sarò anch'io per sostenere i ragazzi Sempre forza Mila, il Milan vivo Grazie mille